questo è un altro apparecchio dove praticamente come vedete la tariffa di s 1 e 50 non risulta merisiglioso di questa macchina non c'è cartello che praticamente attesti qual è il costo della posta in questa zona qui pertanto ci rifaremo a questo cartello qui dove anche in questo caso la sossa per residente al comune curioso sarebbe un'ora mentre invece a quell'apparecchio non si sa perché 1 euro e 50